Quest'anno i regali di Natale non saranno soltanto fatti col cuore, ma saranno anche originali e creativi e aiuteranno a valorizzare l'artigianato artistico fiorentino con Fidenze Creativa Christmas. La campagna di Artex, centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana, che in questo Natale 2021 vuole promuovere l'acquisto dei regali presso gli artigiani e gli artisti fiorentini con l'aiuto della piattaforma di Fidenze Creativa. In un momento di grande consumo, come è il Natale, invitare tutti a fare acquisti consapevoli, acquisti di qualità, acquisti sostenibili e che diano una mano a un settore vitale come quello dell'artigianato artistico che ha in maniera intrinseca un valore sì di natura economica, ma anche di natura culturale e storica. Siamo un anno e mezzo alle spalle molto difficile, non solo per l'artigianato, ma per il tessuto economico, lavorativo e sociale della città di Firenze. Quindi confidiamo che anche attraverso queste settimane possiamo assicurare la ripartenza della nostra città e degli artigiani fiorentini. Un grazie intanto a tutti coloro che stimolano questa attenzione per le produzioni artigianali e le produzioni locali. Primo fra tutti l'amministrazione di Firenze che ha una grandissima sensibilità verso questo aspetto. La salute delle nostre imprese è una salute che va via via migliorando, ma oltre a leggere i numeri che stanno riprendendo, anche se con alti e bassi e anche con molte diversità tra settore e settore, quello che stiamo registrando è la voglia di ripartire, la voglia di farcela nonostante tutto.